buongiorno continuo questa serie di piccoli video sulla sull'ecologia di alcune piante di montagna e specificamente questa prima serie di video è dedicata a alberi quindi nel video precedente mi sono dedicato all'arice specificamente in questo video vi parlerò di due altre piante una delle quali avevo già indicato nel video precedente e parlo dell'abete rosso che già potete cominciare a intravedere alle mie spalle ma vorrei partire in realtà da un'altra pianta molto bella che io amo particolarmente che è invece una caducifoglia e si tratta del sorbo degli uccellatori nome comune in italiano di sorbus occuparia quindi si tratta di un sorbo appunto quindi una pianta che appartiene alla famiglia delle rosacee come buona parte delle piante da frutto di fatto delle nostre latitudini ma questa chiaramente è una pianta selvatica ovvero che cresce spontaneamente e il sorbo degli uccellatori è anche generalmente un indicatore di climi freschi infatti in italia lo troviamo solamente in situazioni di altitudine altitudine che chiaramente varia a seconda delle realtà climatiche differenti ma sulle alpi cominciamo a trovarlo in genere già dagli 800 900 metri in su però allo stadio selvatico bisogna andare ancora più in alto qua siamo a 1600 metri ed effettivamente a queste quote la pianta è piuttosto diffusa ora io sto mostrando le infiorescenze siamo al 31 di maggio quindi stiamo entrando nel mese di giugno diciamo ma a queste quote è come se fossimo ancora diciamo a metà della primavera quindi i prati le fioriture non hanno ancora l'aspetto diciamo pienamente estivo che avranno tra un mesetto quindi abbiamo ancora delle fioriture tipiche della tarda primavera le rosacee a quote più basse cominciano già a fiorire alla fine di marzo in genere fioriscono nel mese di aprile qua andiamo nel mese di maggio quindi passiamo appunto a vedere un pochino più dettagliatamente il sorbo degli uccellatori ecco ora vi faccio vedere bene infiorescenza profumata molto gradevole a grappolo e ovviamente anche una volta che la pianta andrà a completare il suo ciclo riproduttivo quindi i fiori diventeranno frutti i frutti esattamente come i fiori anche manterranno questa forma a grappolo e sono di un bellissimo arancione vivace e sono sicuro che molti di voi li hanno notati in occasione di soggiorni in montagna dove tra l'altro vengono spesso usati anche per le alberature comunissime in sud tirolo nel tirolo in baviera in molte regioni dell'austria forse in italia diciamo un pochino di meno ma si trovano comunque anche nei giardini quindi bellissimi fiori e scusate frutti di colore arancione che però ci dicono qualcosa anche sull'utilizzo di questa pianta quindi perché quando noi andiamo a guardare il nome comune della pianta che come vi ho detto è sorbo degli uccellatori ci dice che la pianta in passato aveva un utilizzo tradizionale quale purtroppo dico io esca per gli uccelli infatti con il sorbo degli uccellatori che è una pianta piuttosto malleabile ora io vi faccio vedere perché anche qua è cresciuta in forma circolare notate qua sotto però questa è una una crescita assolutamente spontanea invece in alcune regioni delle alpi specificamente delle alpi orientali quindi parliamo soprattutto di quella fascia che va diciamo dalla montagna del bresciano attraverso il trentino e quindi dentro tutto il veneto e la montagna friulana la carnia la pianta il sorbo degli uccellatori veniva piantato in forma circolare e si creavano i cosiddetti roccoli che erano delle strutture artificiali nel senso create dall'uomo anche se con delle piante intorno alle quali venivano poi messe delle reti gli uccelli richiamati da dalle bacche dai frutti di questa pianta di cui sono particolarmente ghiotti rimanevano ahimè impigliati nelle reti e sappiamo bene che in determinate zone della montagna italiana penso al bresciano una su tutte gli uccellini ahimè venivano considerati una prelibatezza a livello alimentare e quindi i roccoli erano molto diffusi ora praticare la caccia con i roccoli è proibito fortunatamente però ne rimangono comunque tracce in molte zone delle alpi orientali tracce diciamo visibili dei roccoli ma anche tracce nella toponomastica nella toponomastica basti pensare ad esempio al parco del roccolo a pieve di cadore che prende il nome appunto da una di queste strutture antiche ora vi lascio con le immagini del sorbo chiudo questo video e passo progressivamente a parlare di un'altra pianta che poi sarà l'oggetto del video successivo che è l'abete rosso che sto inquadrando in questo momento quindi finisco il video girando nuovamente l'obiettivo e facendovi vedere un'immagine ancora una volta del sorbo degli uccellatori ecco